Funwick.it, abbiamo avuto più volte in queste settimane l'occasione di sottolineare quanto siano lontane dalla tradizione le nozze di Meghan Harry per via delle origini non nobili dell'ex attrice, della sua famiglia e del suo precedente matrimonio. A proposito di famiglia, il padre Thomas ha profondamente messo in imbarazzo la futura principessa d'Inghilterra, per questo motivo, e per il recente infarto, non sarà presente al Royal Wedding. Ad accompagnare Meghan sarà con probabilità la madre Doria Ralliende se il 19 maggio questa eventualità dovesse verificarsi. L'Inghilterra tornerebbe in un batterbaleno al 1866 quando la regina Vittoria scortò all'altare la sua terza figlia, la principessa Elena, poiché il principe Alberto era deceduto cinque anni prima. Il padre di Meghan Markle non parteciperà alle nozze ma sarà costretto a, ecco cosa dovrà fare il giorno delle nozze.